L'argomento è quello che è il filo conduttore della festa, che è il confine. Il confine, possiamo dire, come inizio, è qualcosa prettamente umano. Il confine in natura non esiste. Se non può sembrare in qualche caso, ma anche quello poi lo andiamo a vedere in modo approfondito, è un concetto proprio propriamente umano. E' un concetto che provoca tantissimi problemi alla fine, perché questa cosa del confine, si vede il confine tra gli stati, il confine tra le diverse culture, ci porta a pensare che chi è oltre il confine è diverso da noi. Ed è assolutamente assurdo, perché il confine è solo una linea teorica e non segna un cambiamento tra la gente. Anzi, si vede, ad esempio, sulle Alpi, dove ci sono i confini. Noi abbiamo tutto il nostro paese, abbiamo un confine che è segnato dalle Alpi. Il confine è proprio direttamente sulle Alpi e si vede che la gente di montagna che abita vicino al confine si è sempre spostata verso, nel nostro caso, verso la Francia o verso la Svizzera e mai verso la pianura, perché la gente che viveva in montagna chiaramente aveva più similitudini con i vicini che vivevano in montagna. Quindi questi confini sono sempre assolutamente teorici, però poi alla fine pratica portano dei problemi fortissimi. Vediamo le guerre, ci si uccide per un confine, per rispettare il confine. E anche noi nel nostro piccolo, io vi porto il nostro esempio, noi abbiamo un'azienda agricola, quindi facciamo agricoltura, dico così perché noi abbiamo un metodo di fare agricoltura un po' non intensivo, però il concetto è lo stesso, noi abbiamo comprato i terreni e non abbiamo delimitato con una barriera fisica il nostro terreno, però naturalmente noi non vogliamo che dopo il vicino viene e raccoglie le mie mele o raccoglie le mie cose o invade, perché poi viene visto sempre come un'invasione. E quello possiamo vederlo anche proprio su di noi come esseri umani. Adesso vi faccio una piccola domanda che sembra un po' assurda, ma abbiamo trovato che potrebbe essere molto significativa. La nostra pelle crea un confine verso l'ambiente esterno, giusto? Ma è la pelle o sono i peli che sono sulla nostra pelle che creano il confine? Cosa mi dite? Io dico il pelo. Io dico il pelo. Il pelo c'è la pelle. Esatto. L'aria che passa tra i peli e la pelle, dov'è il confine? Esatto. Il pelo, in fondo, è difficile dirlo, però se la vediamo in questo modo i confini sono a volte facilmente definibili, ma a volte non sono assolutamente definibili. E questo è veramente quello che crea anche molta insicurezza. E dopo magari per ultimo vorrei anche dire, proprio parlare un po' dei problemi sociali che può creare il confine. E in natura, quando si parla di confine, noi possiamo pensare, tra la terra e il cielo, dov'è il confine? Tra la terra e il mare? Pensiamo al bagnasciuga, dov'è il confine? Esiste un confine tra la terra e il mare? Si sposta? Non esiste, proprio. No, no, no. Non esiste, perché l'onda può andare più avanti di 10 centimetri, ma può anche tenersi più indietro. E quindi è qualcosa che si vede completamente assurdo. E questo in tutti, abbiamo detto, tra la terra e il cielo, tra il cielo e il mare, tra la terra e il mare. E quindi è qualcosa veramente, assolutamente costruito. E poi possiamo anche vedere, un attimo, voglio solo farmi un piccolo appunto, proprio parlando di agricoltura. Perché l'agricoltura, che si ne dica, ha un ruolo molto importante nella nostra società e per la nostra vita, perché ci fornisce gli alimenti e quindi è proprio la cosa base che sta alla base della nostra vita. In agricoltura abbiamo visto che i terreni sono molto definiti, esistono proprio piani con parcelle molto definite, ci sono le pietre che delimitano i terreni, eccetera. Ma quando noi andiamo a vedere, ad esempio, dell'erosione provocata dal vento, noi sappiamo che sui terreni, il vento, soprattutto sui terreni che non sono coperti da uno strato di erba, ad esempio, perché l'erba tiene il terreno abbastanza fermo, ma soprattutto in agricoltura, ad esempio, quando noi andiamo a vedere colture come il mais, che sono colture molto intensive a livello di sfruttamento del terreno, ma il mais ha il grande svantaggio che oltre a essere veramente molto vorace, sia come acqua che come elementi nutritivi, e quando nasce è una piantina molto esile, che non occupa molto spazio, quindi rimangono tantissimi spazi aperti tra una pianta e l'altra. Ed essendo una pianta che prende molto, sia come acqua che come elementi nutritivi, quindi impoverisce molto il terreno, è facile che ci sia una forte erosione dovuta dal vento. E il vento, quando porta via queste particelle, le porta dal vicino. E allora noi cosa dobbiamo fare? Andiamo dal vicino con il secchiellino e diciamo, guarda che quella è la mia terra. No, quindi vediamo che in natura non ha senso parlare di confini. E possiamo dire che, adesso mi sono presa due dati, solo per farvi, non voglio fare una cosa troppo tecnica pesante, ma solo per darvi un po' un quadro. L'erosione che si può riscontrare in campi dove viene coltivato il mais può essere fino a 100 tonnellate per ettaro all'anno. Un ettaro sono 10.000 metri quadrati. Voi vi immaginate quanto terreno si sposta, quanto terreno, ed è normalmente sempre la parte più fine della terra che viene portata via dal vento. Quindi la parte più importante, quella più fertile. E cosa succede? Esistono tre casi che sono legati all'erosione del vento. E dipende tanto dalla dimensione delle particelle della terra. Quando noi abbiamo pezzetti o particelle di terra che sono superiori a 0,5 mm, questo fenomeno si chiama rettazione. Cioè praticamente queste particelle, essendo così grandi, ruotano, vengono trasportate ruotando, rollano via praticamente. Quando invece i pezzettini, le particelle di terra, sono da 0,1 a 0,5 mm, si definisce saltazione. Praticamente queste particelle saltano, non ruotano più perché non sono più così grandi, non riescono più a ruotare, ma cominciano a saltare. E poi esiste ancora un ultimo fenomeno, che è quello della sospensione. Quando le particelle sono più piccole, sono inferiori allo 0,1 mm. E queste praticamente liberano nell'aria, galleggiano, e vengono proprio trasportate e galleggiano proprio nell'aria. E quindi abbiamo visto che anche una particella piccolissima, però se noi le andiamo a vedere nel corso dell'anno, noi abbiamo uno spostamento di terreni impressionante. Per non parlare poi del problema, ad esempio, nei deserti, con le dune, dove esattamente le dune camminano. Io voglio vedere, creare dei confini in una situazione che è il giro. Adesso in agricoltura, per ovviare un po' a questo problema, perché è anche un problema proprio a parte di confine, anche proprio di impoverimento del terreno, si fanno delle barriere per proteggere questi spostamenti e per evitare questi spostamenti. Naturalmente devono essere barriere che devono essere fatte con un certo criterio, perché se noi abbiamo questi forti venti e facciamo una barriera troppo fitta, troppo alta, andiamo a creare degli spostamenti d'aria ancora più forti, perché noi immaginiamo che il vento arriva di qua, noi facciamo una barriera troppo alta, il vento batte contro questa barriera, si alza con troppa forza e così torna dall'altra parte, gira intorno alla barriera e dall'altra parte è ancora più forte, quindi si tendono a fare delle barriere con diverse altezze, con diverse distanze a scala, proprio per mitigare questa forza del vento. Esiste anche un altro tipo di erosione, che è l'erosione provocata dall'acqua. Noi possiamo vedere, anche qua mi sono presa due dati, abbastanza interessanti, succede soprattutto nei terreni in pendenza, e uno pensa al terreno in pendenza, penso subito a una riva molto ripida, ma si può dire che l'erosione comincia già con una pendenza del 2%, che quindi in fondo sono due centimetri su un metro, se non mi sbaglio, e quindi non è una pendenza molto significativa. E' quando si ha una portata di acqua di 10 litri per metro quadrato. E qui andiamo già proprio con una pioggia forte, come stiamo vedendo sempre di più negli ultimi tempi, con questo cambiamento climatico, queste piogge sempre più brevi, ma molto aggressive, e che portano veramente via il terreno, spostano proprio il terreno. E quindi è anche molto importante avere sempre una certa copertura del terreno. Diciamo su terreni incolti, o terreni erbosi, la protezione migliore è proprio l'erba, perché riesce a tenere molto bene il terreno. Solo in agricoltura non coltiviamo erba, e coltiviamo alimenti, e quindi è una problematica abbastanza difficile da gestire. Naturalmente quando il terreno è umido, c'è meno probabilità di erosione sia portata dall'acqua che dal vento, perché le particelle del terreno sono più unite tra di loro, quindi tengono meglio. Però si vede, ad esempio, quando noi andiamo in pianura padana in primavera, e Arano, noi vediamo dietro il trattore, esistono, cioè si creano proprio questi nuvoloni enormi di terra, che viene portata da una parte all'altra. E quello è anche molto pericoloso sia per l'ambiente, ma anche per noi, perché queste particelle che abbiamo visto, molto piccole, sotto al 0,1 mm, sono veramente molto fini, se noi le respiriamo entrano nei polmoni, e quindi possono provocare dei danni assolutamente pesanti, anche per la nostra salute. Con quello concluderei la parte dell'agricoltura, era solo un accenno, ma mi interessava molto di più dire, esattamente in natura non esistono confini. Immaginiamo le piante, noi possiamo vedere le piante che abbiamo qua, e crescono una vicino all'altra. E' chiaro, le piante sono come tutti gli esseri, anche come noi, non c'è nessuna differenza in questo. ognuno vive per la sua sopravvivenza, appunto alla sua sopravvivenza, naturalmente. Però diciamo, mentre noi abbiamo un atteggiamento sempre più aggressivo, anche portato proprio da questa cosa che sono i confini, dalle piante questo non esiste. Le piante vivono molto bene tra di loro, e in tanti casi creano delle simbiosi. E non solo tra le piante, pianta con pianta, ma soprattutto con microorganismi e con funghi e batteri. Tantissime piante convivono con le loro radici, con microorganismi e batteri. Quindi si crea proprio una simbiosi, cosa che tra noi umani è molto rara e difficilmente si può riscontrare. Ci sono dei casi molto rari di piante. Possiamo vedere il noce, che abbiamo esattamente un noce, che è la pianta che vediamo appena qui dietro, questa piccola riva. Il noce è una pianta allelopatica. Esistono piante che si definiscono allelopatiche, perché? Perché vanno a trasmettere delle sostanze attraverso le radici, ma anche attraverso il fusto e le foglie, all'interno del terreno, per allontanare altre piante, perché sono piante che hanno delle esigenze molto forti, quindi temono molto la concorrenza, e per difesa emanano queste sostanze nel terreno e queste sostanze impediscono ad altri vegetali di vivere vicino. Infatti, se noi vediamo, soprattutto questi sono noci abbastanza giovani, per questo io avevo subito notato questo, ma non è significativo, questo qua dietro, ma vediamo che c'è molta vegetazione. Primo perché il terreno è molto in pendenza, quindi non è molto significativo come esempio, ma se noi vediamo i noci, soprattutto quando sono già piante, molto molto grandi, vedete al di sotto non cresce niente, proprio perché contengono queste sostanze che allontanano. Ma dall'altra parte il noce, potremmo dire, accidenti, com'è cattiva questa pianta, non è vero, perché nello stesso tempo il noce ha un'attività, attraverso le sue radici, e lavora molto in simbiosi con tantissimi funghi e tantissimi microrganismi. E questo è di nuovo un, non è un confine, il noce non fa il confine con i suoi vicini, il noce vuole sopravvivere, per questo ha bisogno del suo spazio, ma nello stesso tempo interagisce anche con altri organismi. Gli animali, gli animali sono per certi aspetti molto più simili a noi, e noi ci sentiamo molto più simili agli animali che non alle piante, perché abbiamo tanti punti più in comune. Abbiamo le gambe, loro hanno le zampe normalmente, abbiamo gli occhi, possiamo sentire, possiamo vedere, quindi abbiamo molta più attitudine, più familiarità con gli animali. E noi vediamo, è successo proprio la settimana scorsa, eravamo in alta montagna, e siamo, abbiamo nella nostra passeggiata, trovato diversi branchi di scambetti. e lì si è visto esattamente, ogni branco ha il suo territorio, e questo succede con tutti gli animali, i cani, anche i gatti, i caprioli, tutti gli animali vivono in un determinato territorio e segnano quel territorio, normalmente con la pipì o con gli escrementi, per dire, guardate che qua viviamo noi. E quello potrebbe essere visto come un confine, perché ogni branco ha il suo territorio. In realtà si può definire confine, ma è un confine molto, molto blando, molto, molto leggero, perché a differenza di noi umani, noi vediamo che quando il branco, per un motivo o per l'altro, si sposta, quel terreno è di nuovo libero per altri animali. Non lo rivendica più. Esatto. Invece noi uomini, la grande differenza che abbiamo, che anche noi segniamo il nostro territorio, non con la pipì, ma con i recinti, è già un pochino più moderno, diciamo, ma diciamo, la grande differenza è che l'animale segna il territorio e impedisce ad animali di altri branchi di avvicinarsi e far vedere subito, guarda, questo è il mio territorio. Prima cosa, se non è proprio per sbaglio, per errore, un animale non uccide mai un animale invasore, deve essere proprio solo per un caso, per uno sbaglio, perché gli animali attaccano, fanno capire, dicono, guarda che questo è il nostro territorio, tu fai parte di un altro branco, non ti vogliamo, ma è un'intimidazione. Invece noi umani uccidiamo per mantenere i nostri territori. Le guerre, abbiamo una storia di guerre di migliaia di anni, quindi è proprio molto significativo. L'altra differenza è tra gli animali e noi umani, come ho detto, quando un branco decide, per un motivo o per l'altro, di spostarsi, il territorio che lascia è di nuovo un territorio libero, dove un altro branco, un'altra famiglia, può insediarsi. Invece noi umani, cosa facciamo? Quando noi compriamo un terreno e poi moriamo o abbiamo deciso di andare a vivere da un'altra parte, quel terreno non è più libero, rimane lì e rimane nostro, anche se noi siamo già morti magari e ai nostri figli non interessa neanche, ma quel terreno rimane limitato e quello porta ha dei problemi enormi, si vede sia qua sull'Apennino ma anche in montagna, io vengo dalle Alpi, quindi ho un pochino più esperienza nelle Alpi rispetto all'Apennino, però diciamo ci sono tantissimi terreni che sono stati abbandonati nel dopoguerra perché la gente è scappata in Francia, io vengo dalle valli di Cuneo quindi la gente da noi è scappata in Francia, era più facile, più vicino e quindi hanno lasciato completamente questi terreni, questi terreni sono ancora fermi adesso, non c'è la possibilità né di coltivarli né di usarli perché sono proprietà privata e questo è un danno per l'ambiente ma noi uomini in quelle cose siamo anche un po', scusate il termine, ma siamo anche un po' stupidi perché siamo un po' limitati, vediamo solo fino a domani e non vediamo a lungo termine è controproduttivo perché adesso noi abbiamo tantissimi terreni incolti, abbiamo una fame di terreni perché siamo sempre di più importiamo magari il grano esatto e questi terreni non possono essere utilizzati perché sono proprietà privata e qualcuno li ha pagato esatto e quindi io sempre noi abbiamo sempre sostenuto questo, abbiamo sempre detto la terra non si deve comprare, la terra è una risorsa che deve essere per l'umanità per tutti non solo per l'umanità intesa come uomo ma per tutto per tutti quindi sarebbe opportuno magari rivedere un po' le nostre regole che ci siamo costruiti nel tempo e il terreno non si dovrebbe comprare ma semplicemente affittare un usufrutto diciamo così finché io sono vivo e coltivo questo terreno ho il diritto a coltivarlo quando io non ci sono più oppure non lo voglio più coltivare questo terreno deve ritornare alla società alla comunità perché la proprietà privata è assolutamente deleteria ed è un qualcosa che ritorna contro di noi non per noi un'altra cosa che mi sciocca sempre tantissimo sono le delimitazioni delle proprietà private io come detto noi nei nostri terreni non abbiamo per scelta fatto nessuna recinzione nessuna delimitazione perché non vogliamo dividere quello che è nostro da quello che non è nostro perché la natura non interessa all'erba che c'è per terra alle piante esatto non interessa è anche brutto vedere soprattutto poi dove ci sono comunità quindi dove c'è un certo ammucchiarsi di gente per difendersi cosa si fa si fanno i cancelli si fanno le palizzate si fanno i muri ma tanto i ladri entrano lo stesso a cosa serve il mondo non aiuta è solo per fare vedere questo mio esatto questo è mio è una sicurezza tua esatto ma è una sicurezza fasulla non è reale ti hanno fatto credere sia necessario esatto e quello porta proprio a un restringimento anche mentale esatto perché quando noi cominciamo a pensare in questo modo più cominciamo a chiudere questo è mio questo è tuo tu non puoi entrare tu non puoi fare diventiamo sempre più chiusi e più cattivi e più cattivi esatto quello è esattamente il punto invece di essere qualcosa che porta uno sviluppo per la nostra società porta a tornare indietro ma male nel senso cattivo esatto non fa bene perché ci chiude la mente e diventiamo molto egoisti e diventiamo troppo possessivi ma la vita non è possedere perché tanto noi non ci portiamo dietro niente la vita esatto condividere e anche con la natura adesso io vi faccio un esempio io quest'anno chiaramente noi abbiamo una parte del nostro terreno che per me è molto importante diciamo noi facciamo anche coltivazioni perché abbiamo un'attività quindi dobbiamo anche produrre per avere qualche soldino abbiamo tantissimi caprioli e i caprioli mangiano tantissimo volentieri quello che tu coltivi quello fresco germoglioso guarda accanto esatto anche quest'anno che abbiamo avuto una primavera molto piovosa quindi noi abbiamo molto bosco intorno molto noi viviamo su un cocuzzolo dove praticamente tutto il resto è abbandonato e quindi c'è tanto da mangiare in fondo ma stranamente i caprioli piacere sempre quello che abbiamo da noi gira, rigira, arrivano sempre lì e così io cioè noi abbiamo deciso noi abbiamo due etari e mezzo di superficie con le coltivazioni però abbiamo visto abbiamo tantissimi caprioli allora il primo punto fondamentale da chiarire è che quando noi siamo arrivati su questo terreno i caprioli vivevano già lì quindi gli invasori siamo noi e non loro e quindi quando uno parte con un atteggiamento mentale di questo tipo affronta anche le cose un po' diverse perché io non voglio fare la guerra contro i caprioli perché primo mi faccio un fegato così e sono già magra ma poi rischio di sparire in due settimane perché mi consumo completamente e poi perché devo fare la guerra tanto la perderei comunque appunto e quindi partendo da questo concetto noi non abbiamo recintato abbiamo detto va bene facciamo un compromesso noi vi lasciamo noi vi lasciamo la maggior parte di quello che abbiamo coltivato ve lo lasciamo e fate un po' cerchiamo di contenere con metodi non invasivi ad esempio abbiamo provato di tutto abbiamo provato col peperoncino abbiamo provato con ultrasuoni abbiamo provato veramente con il sangue secco per tenerli lontani funziona per un po' ma quando loro hanno fame poi alla fine vincono loro anche noi quando abbiamo fame prima di morire di fame andiamo del vicino abbiamo le zucche al vicino brutta da dire ma è così e così l'unica parte molto importante nella nostra terra è quella che noi dedichiamo all'orto perché per noi è la propria sopravvivenza pura perché mentre l'azienda porta i soldi l'orto porta il mangiare e nella nostra scaletta di valutazione l'orto ha più importanza e quindi noi abbiamo messo una rete mobile molto mobile una rete plastica diciamo semplicemente tirata senza molto non è stabile molto mobile e loro entrano quest'anno l'anno scorso non sono entrati quest'anno nonostante sia tutto bello verde entrano lo stesso allora io adesso sto facendo proprio la la figura dell'idiota perché avevo le coste alte così e ho detto oh che bello domani faccio le polpette con le costine la mattina sono andata per raccogliere le costine le costine non c'erano più era rasato terra ho detto accidenti è passato il capriolo va bene mangiamo qualcos'altro le costine sono di nuovo cresciute io le ho di nuovo guardate ho detto vabbè però gli zucchini le faccio appena abbiamo mangiato gli zucchini zac di nuovo è la terza volta che capivo la partita così cosa ho fatto per proteggermi perché non riusciamo a capire da dove entra perché la rete è molto poco stabile quindi basta che lui ci va dentro un po' con forza la rompe o salta così ho preso quelle reti che si usano per coprire gli alberi e l'ho messa perché avevo delle insalate bianche diciamo quella quadrette bianche che si vedono anche sui collai adesso per proteggere dalle cogliane esattamente quella e funziona solo quest'anno abbiamo anche avuto diversi problemi in primis la caccia perché quest'anno i cacciatori sono stati fermi non hanno fatto la caccia i caprioli si sono riprodotti a dismisura abbiamo avuto tantissime mamme con i piccoli quindi hanno fame e devono mangiare questo non vuol dire che io sia d'accordo con la caccia anzi io non sono assolutamente d'accordo con la caccia mi dispiace dirlo neanche con i cacciatori perché questo problema è partito proprio da loro perché abbiamo avuto anche un'invasione di una squadra di 15 cinghiali un gruppo di 15 cinghiali tra piccoli e adulti cosa che da noi era mai successa perché da noi cinghiali ne abbiamo pochi però mi dispiace se me li poi li portano e poi li hanno incrociati con i maiali così fanno ancora più piccoli poi basta una stagione che la caccia è ferma abbiamo un'invasione di animali selvatici che è impressionante così per tornare al discorso ho messo questa rete molto fine quella che si usa per coprire gli alberi da frutta perché avevo le insalate così belle ho detto almeno le insalate lasciamole mangiare poi altrimenti cosa mangiamo poi sono lavori di mesi che in un giorno fanno esatto lo spirito di sopravvivenza viene fuori lasciami almeno da mangiare mangiami i mirtilli mangiami le rose mi mangiano tutto ma almeno qualcosa lasciate anche per noi abbiamo messo la rete poi siamo stati via qualche giorno per lavoro siamo tornati e io ho fatto subito il mio giro per vedere un po' se c'era ancora qualcosa oppure no una di queste reti era un po' smossa perché era solo appoggiata sulle verdure e abbiamo trovato una biscia che si era incastrata perché le maglie sono molto fine un centimetro per un centimetro questa biscia era già tutta attorcigliata poi lei per riuscire a liberarsi si è stretta ancora di più e io mi fanno un po' senso le bisce e allora ho chiamato subito lui ha detto c'era biscia c'era biscia e abbiamo con le forbici tagliate la rete provato a liberarla e lasciata di nuovo libera così per fare meno danno alla fine ho fatto un altro danno perché le bisce sono molto utili e per fortuna abbiamo le bisce perché mangiano i topi e tengono anche sotto controllo tanti piccoli eroditori che amano anche molto le nostre verdure quindi esatto ce ne è per tutti proprio e così è proprio un po' sempre quel conflitto dove il mio confine la mia esigenza io faccio un intervento per limitare un danno creo un altro danno e così adesso devo un po' di nuovo rivedere tutta la mia teoria con questa mia recinzione assolutamente non vogliamo fare recinti fissi perché un recinto fisso vuol dire portare reti in metallo pali cemento perché da noi la terra non tiene il palo deve essere per forza cementato e questa rete di noi un confine fisso e quel confine fisso rimane e anche quando noi dovessimo per caso toglierlo la terra quel trauma non lo supera così velocemente e per questo ci prendiamo tutti gli inconvenienti e cerchiamo altre soluzioni torniamo un attimo ancora a noi e diciamo esattamente i problemi sociali creati proprio dai confini che noi stessi abbiamo creato abbiamo detto quando noi facciamo un confine vediamo quello che dall'altra parte del confine è diverso e anche non accettiamo che la gente entra poi la gente che è fuori dal confine entra nel nostro confine vediamo adesso con i problemi dell'immigrazione sicuramente è anche un po' una questione di mal gestione diciamo politica sociale e ci sono tanti fattori adesso non è questa la discussione ma solo per dire noi non vogliamo che loro vengano da noi assolutamente assurdo possiamo pensare soprattutto noi italiani siamo in tutto il mondo centinaia di anni di emigrazione esatto siamo andati in tutto il mondo siamo in America siamo andati ovunque e poi fino a qualche tempo fa era totalmente normale questa migrazione questo spostamento dei popoli da una parte all'altro popoli o anche singoli individui adesso improvvisamente non vogliamo più non vogliamo chiudere vogliamo proprio fare una barriera e non accettiamo più quando esattamente come hai detto siamo proprio noi che siamo andati in tutto il mondo io credo che il concetto sia il fatto che siamo noi che siamo andati noi siamo andati e va bene questo è più legato al discorso della guerra ai caprioli nel senso che è innato è naturale come impedire alle piante come impedire alla capriola di andare infatti lì si va forse semplicemente in un discorso politico che viene l'unico fine è quello ma chi lo fa sa benissimo che sta portando contro però il problema è che quello si trova anche piano piano è entrato anche dentro di noi perché viene utilizzato come esatto anche noi adesso siamo diffidenti anche noi vediamo ma quello è uno straniero mio marito è tedesco noi scherziamo sempre diciamo mio marito è extracomunitario perché però anche lì ci hanno fatto chiedere il paese di serie A il paese di serie B perché il tedesco in Italia gli fai la riverenza no per esempio si però sei sempre extracomunitario si si è una cultura diversa se invece arriva uno dal Medio Oriente esatto arriva il povero dopo diciamo il povero viene per approfittare come esatto come per me il capriolo ecco adesso questo viene e mi ruba e poi dall'altra parte non pensiamo che invece sono esattamente una risorsa soprattutto ad esempio in agricoltura chi è di noi che lavora ancora come dipendente in agricoltura nessuno ti pagano 800 euro al mese obiettivamente un italiano non ce la fai perché con 800 euro al mese tu non puoi vivere lavorare 8 giorni 8 ore al giorno esatto esatto e così per forza dobbiamo trovare gente che fa questo lavoro che con quei soldi può sopravvivere e quindi può per loro può bastare e quindi in fondo per noi è una risorsa ma noi anche noi piccoli nel nostro piccolo non la vediamo più come una risorsa perché come ho detto abbiamo preso dei blocchi mentali i blocchi mentali hanno proprio chiuso la nostra mentalità e questo porta anche a una forte aggressività perché la difesa della proprietà privata porta a un'aggressività molto forte e questo abbiamo visto nei secoli con le guerre perché questo è mio e che tu passi ti spari e ti ammazzo appunto e quindi sarebbe un po' da ragionare e proprio per concludere questo ultimo periodo che ci ha toccato tutti da vicino con il covid quindi è qualcosa di questi ultimi mesi di questi pochi mesi si è sentito tanto dire che questa problematica ha creato una barriera e un confine e non c'è più la relazione sociale io personalmente poi mi piacerebbe anche sentire un po' le vostre opinioni io personalmente non trovo che ha creato una barriera ai contatti sociali ai contatti fisici ma non sociali infatti il problema è stato capito definire distanziamento sociale non distanziamento fisico esatto e quello è stato molto confuso è stato il messaggio è stato mandato in un modo molto confuso è recepito in un modo molto confuso perché noi eravamo già anche in una situazione non usuale e quindi già completamente in tilt per la situazione di per sé e io trovo in fondo è proprio un'occasione questa che noi abbiamo soprattutto perché si impara di nuovo avere più rispetto perché a volte è chiaro che quando trovi un amico è bello poterlo abbracciare è bello poterlo baciare però io mi vedo sempre nelle situazioni quando ci si trova soprattutto in queste in campagna perché gli spazi sono molto aperti ma ad esempio nelle città dove c'è una concentrazione di gente molto forte è un continuo spintonarsi di qua e di là cioè tu cammini sul marciapiede ti passa la gente ti salta addosso non ti vedono neanche che a Milano hanno apprezzato il lockdown perché la metropolitana finalmente era vuota era vuota esatto e quello per noi può essere proprio un'opportunità per capire di nuovo che non non per creare un confine ma per creare più rispetto verso un'altra persona e cercare anche di mantenere un po' certe distanze ma non nel senso negativo cioè se io cammino per strada è vero che la strada è affollata e quindi ci si è tutti ammucchiati ma se io ti vengo a sbattere contro perché magari sto guardando il cielo o sto pensando al marito che mi ha fatto arrabbiare sono incavolato almeno fermati e chiedi scusa magari a volte è inevitabile venirmi addosso però basta quel minimo di rispetto e ci si può fermare e si può chiedere scusa invece adesso noi anche perché non siamo più abituati viviamo molto solitario e quindi l'impatto con la città a volte è proprio un po' scioccante molto interessante dall'altra parte facciamo volentieri perché meglio che vedere la tv no no c'è uno studio esatto di troppo invasivi perché è bello ma deve essere reciproca esatto ma non essere invasivi perché quando la gente diventa anche troppo invasiva può diventare anche pesante e questo non deve essere visto come un confine ma deve essere semplicemente vista come una forma di rispetto va bene con questo più o meno adesso però vi piacerebbe un po' sentire voi come vivete questa cosa col confine che impressione avete? mi ha scioccato quando mi sono trasferita in Liguria o comunque in molte città marittime è la questione dello stabilimento balneare è una cosa assurda terribile io non la concepisco mi sembra proprio chi ha deciso siamo toni nella scatoletta lo stabilimento balneare è da un posto dove la spiaggia non è privatizzata in Sardegna la spiaggia è il 99% a parte un po' di costa di Meralda è come qua in campagna è come se tu andassi nei prati e sono a settori di prati i prati hanno un nome un colore tu paghi l'ingresso e la spiaggia si è ingabbiata da chi non l'ha mai vista privatizzata pagare per mettere il mia aciugamano e la spiaggia non esiste non puoi fare il bagno in quell'acqua perché quel rettangolo mi sta in un po' io la vedo proprio come la cosa assurda lei me l'ha fatta notare noi ci siamo nati cresciti tu hai il metro di spiaggia liberale inizio